Che andavano a saldarsi, ci sia diffuso... Passaggi, il Festival della Saggistica che si terrà a Fano dal 27 giugno al 1 luglio, si avvicina a grandi passi. Oltre al tourbillon di scrittori, giornalisti, editori e personaggi del mondo della letteratura che animeranno il palco principale in Piazza 20 Settembre, ci sono altri aspetti del Festival che vanno a comporre il mosaico di questa manifestazione di caratura nazionale che si tiene a Fano e che Fano si tiene a denti stretti. Nelle consuete ed ormai usuali conferenze stampa, cadenze programmate, alle quali ormai l'ufficio stampa del Festival ci ha da tempo abituato come tappe di avvicinamento al traguardo finale, vengono illustrate di volta in volta le varie anime del Festival. Questa mattina nella Memoteca Montanari, non a caso, sono stati presentati i laboratori, 38 per la precisione, 5 per adulti e ben 33 per bambini e ragazzi, di cui 10 pensati per genitori e figli insieme, dislocate oltre che alla Memo, con la collaborazione dei bagnini grazie alla Confartigianato, negli stabilimenti balneari di Lido e Sassonia. Quest'anno, ovviamente, rispetto allo scorso anno, attività completamente inedite. Avremo laboratori di astronomia, laboratori di scienze, laboratori di fisica, laboratori motori per famiglie, quindi bambini accompagnati da mamma e papà, ma anche laboratori dai più classici, quindi di disegno, laboratori creativi con la carta pesta, laboratori invece con la carta velina di costruzione di fiori, veramente una vasta gamma di attività laboratoriali per un pubblico che va dai 0 ai 99 anni. 15 le associazioni e di professionisti coinvolti in questa operazione Maremonti, molte delle quali nuove entrate, come l'ente carnevalesca che curerà laboratori creativi con la carta pesta organizzati dall'associazione Carristi Fanesi. Onorata di essere all'interno di passaggi festival, questo significa che le grandi manifestazioni della città cominciano a collaborare, a fare sinergia e soprattutto l'ente carnevalesca entra in un festival di grande cultura, questo era il nostro scopo perché anche il carnevale vuole e deve fare cultura. Assessore, lei ha sempre affermato che la Memoteca è la seconda piazza del festival, quest'anno ancora maggiormente? Sì, la Mediateca sarà uno spazio di passaggi ma al tempo stesso passaggi sarà una cornice all'interno della quale le attività della Mediateca Montanella e dei servizi bibliotecari troveranno spazio e importanza.